ed eccoci qui appena finita le partite delle conference ed europa league l'ataranta vince 4 a 0 anzi 0 4 contro il raccob ottima parere tra l'altro con tutte quasi tutte riservi ha segnato muriel bonfanti doppietta doppietta muriel quindi e gol di de ketelar quindi ottima cosa direi sono contento per l'atalanta poi la fiorentina ho visto 1 a 1 gol di ranieri ci facciamo qualche dubbio che chi doveva segnare segnato proprio ranieri per i romanisti che l'hanno insultato e non poco sinceramente non non le condivido ma però mi avete dato un sostegno in più comunque per il resto l'asca toloso 1 a 2 l'everkusen molde 5 a 1 toki tra l'altro ha segnato anche l'ex roma patrizio chic panathinaik osaifa 1 2 a karabakakan 2 a 1 rennes via real 2 a 3 roma tira sfolle come detto prima 3 a 0 royal unian san gillos liverpool 2 a 1 avete qui c'è poi resta anche la sconfitta perché ha messo proprio i frighi i ragazzini quindi alla fine c'è sta slaga praga servette 4 a 0 ajax aec 3 a 1 aris sparta praga 1 3 betis rangers 2 a 3 cioè mi aspettavo gol e over ma non mi aspettavo sinceramente la sconfitta addirittura del betis tra l'altro mezza ciccata sui pronostici non presi 31 quindi vabbè di tutti i pronostici dati allora poi bryton marzia e toki ma sinceramente aspettavo gol e over invece un misero 1 a 0 olimpia costa 5 a 2 olimpia costa sempre una garanzia soprattutto sui parziali fine sui parziali finali la pareta la vince quasi sempre al primo tempo la con l'atalanta 0 4 come detto prima sporting stormgraz 3 a 0 e stem friburgo 2 a 0 aspettavo un gol da friburgo se devo essere sincero aberdà francoforte 2 a 0 ma aspettavo il due al francoforte invece sorpresuna fenerba cittanova 4 a 0 doppietta di del grande ed in sul contento per lui come ha detto ferrenvaros fiorentina 1 a 1 gent cucarichi 2 a 0 legia al camara 2 a 0 tu qui mi aspettavo sinceramente gol e over invece niente non ha segnato per niente l'alcamara è rimasto anche 10 quindi per carità stessa cosa ludovore snorcevan non aspettavo più gol per lo meno pao quel sinchi 4 a 2 tu qui ce n'erano stati fin troppi zrischi aston villa aston villa incredibile non mince sta parità segnata tra l'altro l'ex roma zaniolo club bruce bodoclimbete 3 a 1 dino mozza gabria balcani 3 a 0 c'è la chiamata del penguin che una chiappata n'altra sesta di fila beato chi ha vinto tra l'altro su la diretta instagram mille euro beato lui da mille euro poi una 22 mila se la giocata da mille se vale a due ovviamente l'ail class week 3 a 0 lugano besiktas 0 2 teraviv gent 3 a 1 pilsen astana 3 a 0 e sdoman bradislava lujbiana 1 2 zoria bretta blick 4 a 0 una marea di partite tra conference europa league come avevo detto ieri c'erano parecchie sorprese io sinceramente oggi non ho giocato niente e non cazzo adecuata the over del mezzo roma porca puttana saperlo prima la giocavo ma non mi fido io della roma essendo rumanista non mi fido mai come entra in campo la roma quindi purtroppo me la so chiccata però vabbè poi mi sono fatto uno studio per domani delle pari dei domani le maggiori partite ovviamente non tutti quindi allora andiamo ad analizzare ho messo campionato rumeno campionato belgo cioè western e open ho messo goal e multi goal 2 4 poi monaco lione over una e mezzo casa e over 24 e mezzo tiri totali club back brema multi goal 25 e over 21 e mezzo tiri totali padelbon rostock questa è la serie b tedesca multi goal casa 1 2 e over 24 e mezzo tiri totali shark foot come cazzo chiama shark foot over 1 e mezzo casa goal e over 4 e mezzo cartellini poi nottingham nottingham tottenham over 1 e mezzo ospite multi goal 25 e over 4 e mezzo cartellini genoa juve molti gol 1 3 ospite 2 fisso e over 4 e mezzo cartellini secondo me la juve domani la partita sarà a porta da casa non vedo un genoa che possa addirittura come cazzo dici battere la juve addirittura non cazzo d'assenza il genoa fermare come veniva dal termine quindi per me la juve secondo me la vince magari non lo stra vince in 0 1 massimo 0 2 top spezzi amari no goal multi gol 1 3 ospite x e x fisso messo poi volontari caiova molti gol 1 3 x goal over 4 e mezzo cartellini petrodull rap bucarest molti gol ospite 2 3 e x 2 più over 1 e mezzo o sasuna vallecano under 2 e mezzo x e molti gol ospite 1 3 ea lo vedo elce over 2 e mezzo e molti gol 23 casa nec nimega fortuna sitart molti gol 2 5 molti gol casa 1 3 farenza e stella amadora x goal over 1 e mezzo casa e over 4 e mezzo cartellini queste non le partite le domani pronostici delle partite domani quindi per chi fosse interessato tanto la maggior parte due quarti se non i tre quarti dipendono quasi tutti quindi vedremo sicuri cosa rivedete domani com'è andata a finire la storia e quindi niente appuntamento a domani per la partita della juve e per vedere anche come hanno andato poi i pronostici appuntamento a domani